Com'è andato il tuo turno di fra settimanale? Famvelo sapere qua sotto nei commenti. Buongiorno ragazzi, turno di fra settimanale appena concluso ma è già ora di fiondarsi verso la 34esima giornata di campionato. Facciamo subito i complimenti al Napoli, campione d'Italia meritatissimo e ora andiamo a vedere squadra per squadra e partita per partita cosa ci attende invece per questo prossimo turno. Come sempre, oltre a questi video di preparazione avrete anche la live domani a luna vi aspetto quindi qui su YouTube trovate qua sotto il link per la diretta. Così come sempre qua sotto in descrizione trovate un sacco di video utili per i vostri fantacalcio classic, Manta e Solera. Dateci un'occhiata. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance andiamo subito a vedere chi schierare e chi no all'interno delle nostre formazioni. Mi raccomando, un gran bel like, iscrizione e campanella e ora iniziamo. Ciao, sono Federico Viglino e questo è ProFantacalcio. Sarà un turno di campionato bello tosto ragazzi sia per le squadre che scenderanno in campo sia per noi fan allenatori perché delle prime otto classificate tutte quante si sconteranno tra di loro. Ok, Napoli che è già campione quindi potrebbe fare un po' di turnover ma avremo numerosi big match come ad esempio Milan-Lazio, Roma-Inter avremo poi Atalanta-Juventus e Dulcis in fundo il Napoli che festeggerà lo scudetto nella partita casalinga contro la Fiorentina. Ma partiamo da Milan-Lazio un match che secondo me sarà molto combattuto difficile prevedere un vincitore per quanto riguarda il Milan vedo bene Raffaeleao ma anche Salemegas potrebbe dire la sua insomma ragazzi, saranno molto importanti questi match le ali sia per quanto riguarda il Milan che quelle della Lazio potrebbero fare la differenza mentre a livello difensivo dico su tutti i tomori. Per quanto riguarda la Lazio più Zaccagni di Felipe Anderson ma entrambi si possono schierare al centrocampo più Milinkovic Savic che Luis Alberto ma va allo stesso discorso mentre per quanto riguarda la difesa occhio all'ex Romagnoli. E passiamo all'altro big match tra Roma e Inter ritorno al passato per Giuseppe Murigno però vedo la sua Roma leggermente sfavorita in questo big match. Sarà comunque ragazzi una partita aperta a qualsiasi risultato. Per quanto riguarda la Roma vado a schierare Hebram, Pellegrini e Spinazzola non vedo benissimo la difesa per questo eviterei mentre in casa Inter diamo fiducia ai due attaccanti più Di Marco che D'Affis per quanto riguarda gli esterni mentre al centrocampo punto su Barella. In difesa invece vi dico il nome di Acerbi è vero che è un ballottaggio ma per lui si respira aria di derby. Ultima chiamata a salvezza per la Cremonese contro Spezia attualmente la Cremonese dista 6 punti dallo Spezia appunto quatt'ultimo in classifica a pari punti con il Verona perciò una vittoria di Occhereche e compagni li porterebbe a meno 3 mentre un'eventuale sconfitta li porterebbe invece a meno 9 e quindi sarebbe praticamente game over. Per quanto riguarda appunto la Cremonese vado a schierare Occhereche in gran forma ultimamente viene da due gol consecutivi potrebbe dare continuità e poi vado a schierare Valeri vedo invece meno bene San Nicola. In casa Spezia situazione molto difficile visto l'assenza di Nzola vado a schierare l'out di sinistra ossia i vari Reza Bastoni e Verde potrebbero portare loro i bonus. Atalanta e Juventus potrebbero regalarci alcuni spunti interessanti per questo finale di stagione. Si è sbloccato Muriel tra l'altro ragazzi nell'ultima live ve l'avevo anche consigliato in alcuni barottaggi spero vivamente che mi abbiate dato ascolto vedo comunque meglio Zappata rispetto a Lucio anche se si potrebbe schierare come scommessa. Pasalic non lo vedo benissimo insomma sembrava sessi sbloccato ma veramente una stagione no per lui si può anche lasciare in panchina. si possono schierare invece Kupemainers e un super Zappacosta. Per quanto riguarda Juventus ecco il redivivo Braovic si può dare fiducia a lui per questo match così come la si dà a Kostic e Rabiot un occhio particolare anche per Fagioli che potrebbe fare bene in difesa scelgo Bremer. Torino-Monza è un match tra due squadre oramai tranquille. Per quanto riguarda il Toro si può mettere l'intero tridente d'attacco a partire da Sanabria fino a Blasic e poi Miranciuk attenzione per quanto riguarda gli esterni vedo meglio Rodriguez anche se avrà un bel match contro Ciuria infatti non sarà un avversario facile mentre per quanto riguarda la difesa scelgo Schurz passiamo invece in casa Monza e vi consiglio Caprari così come Pessina Ciuria e Carlos Augusto in difesa si può dare fiducia a Caldirola fresco fresco del gol segnato alla Roma Napoli-Forentina sarà il palcoscenico della festa Scudetto per quanto riguarda i Patenopei per questo lo spettacolo potrebbe essere più sugli spalti in città piuttosto che in campo potrebbe esserci anche un po' di turnover insomma è una partita che si presta veramente alle mille letture è difficilissima da recifrare l'avversario è comunque ostico con una Fiorentina che viene da parecchi risultati consecutivi positivi per quanto riguarda i Patenopei vado comunque a schierare Osimank Varascheria Robotka per un bel voto così come in difesa scelgo Kim e Di Lorenzo passando invece alla Viola i miei preferiti sono Nico González Cabral si può valutare insomma non lo considerare una primissima scelta di giornata mentre per quanto riguarda gli esterni difensivi sia Dodò che Bilag hanno mostrato una certa propensione al bonus ultimamente ma attenzione perché avranno due avversari veramente ostici per questo motivo insomma valutateli se non avete alternative Lecce Verona è un altro scontro salvezza veramente importante i padroni di casa recuperano strefezza e punterei su di lui a centrocampo Yulmand per le solite geometrie e voti alti mentre in difesa vado con Baschirotto e Umtiti Falcone potrebbe essere una buona scelta per quanto riguarda la vostra porta d'altro canto il Verona sicuramente darà battaglia perché si gioca agrampata della sua permanenza in Serie A vado a schierare sia Verdi che Lazovic sugli esterni vedo meglio Faraoni mentre in difesa scelgo Ian e in polisanitana si può comunque etichettare come uno scontro salvezza anche se attualmente le squadre sono un pelo più tranquille per quanto riguarda i padroni di casa scelgo Cambiaghi in formissima due gol consecutivi per lui e quindi continuiamo a dargli fiducia scelgo anche Baldanzi mentre si può dare fiducia tra i difensori a Parisi in casa serenitana invece come tenere fuori Dià assoluto protagonista dell'ultima giornata e quindi continuiamo a puntarci scelgo poi Mazzocchi per quanto riguarda gli esterni e in difesa invece tra i tre della retroguardia vado a scegliere Pirola contro una sample oramai praticamente condannata alla Serie B possiamo mettere parecchi giocatori dell'Udinese Beto si recupera è assolutamente da schierare così come lo sono i centrocampisti offensivi e parlo di Lovic Samaric Pereira mentre per quanto riguarda la difesa scelgo Bijol in casa Samp invece non farei altro che puntare proprio se non abbiamo altre alternative sui soliti volti noti che bene o male la pagnotta a casa la portano sempre nonostante ormai la situazione sia compromessa e parlo di Gabbiadini Augiello e Zanoli lunedì sera si svolgerà invece l'incontro tra Sassuolo e Bologna potrebbe essere una partita ricca di gol vado a schierare sicuramente Bimo Berardi vedo invece meno bene l'Oriente che nell'ultima partita non ha convinto si può anche lasciare in panchina vado a schierare Frattesi e evito invece il reparto difensivo passando invece al Bologna vado a schierare Orsolini che potrebbe magari beneficiare di un nuovo calcio di rigore oppure comunque portare il bonus insomma un giocatore molto interessante arrivato a quote 10 gol Ferguson può essere valutato all'interno dei vostri schieramenti così come Dominguez per quanto riguarda la difesa gli esterni li eviterei in quanto comunque sappiamo che la forza del Sassuolo oltre al palleggio sta anche sugli esterni d'attacco si potrebbe tutt'al più valutare Cambiaso visto che l'Oriente è sotto tono metterei comunque Posh e tu hai dubbi di formazione scrivimi qua sotto nei commenti bene ragazzi questa era la mia analisi per la 34esima giornata oramai alle porte come avete visto tantissimi big match come anche tanti scontri salvezza decisivi sarà una giornata veramente decisiva ecco questo penso che sia il termine giusto per questo turno di campionato per quanto riguarda la nostra live ci vediamo domani a luna sempre qui su youtube avete qua sotto in descrizione il link alla diretta dove potete già impostare per memoria mettere il primo like fare le prime domande insomma ragazzi vi aspetto anche lì così come sempre qua sotto in descrizione avete tantissimi video utili che vi possono aiutare con il vostro fantacalcio classic mantra e il fantacalcio play to world di Soler dateci un'occhiata come sempre ragazzi un gran bel like iscrizione campanella se siete nuovi e volete sempre rimanere aggiornati su tutta la panoramica del fantacalcio e noi ci vediamo molto presto con nuovi contenuti per quanto riguarda i miei Fanta porto a casa in questo turno in classe settimanale una vittoria due pareggi e una sconfitta conservo un primo secondo e due terzi posti mentre nel fantacalcio play to world di Soler porto a casa un'altra soglia nella cap 2.40 rara e questa volta anche con carta premio che si può